Di solito pensiamo alla gravità come a una forza tra oggetti dotati di massa. È facile capire come funziona questa forza salendo su una bilancia per vedere quanto pesate. Il numero sulla bilancia rappresenta la gravità terrestre sulla vostra massa, o il vostro peso sul pianeta Terra. Per quanto riguarda la gravità nel cosmo, possiamo immaginare la gravità del Sole che mantiene i pianeti nelle loro orbite, e sappiamo tutti della forte attrazione gravitazionale in prossimità di un buco nero. La cosiddetta forza di gravità è facile da capire e la gravità potrebbe sembrare una cosa semplice. Ma le cose sono diverse nell'era attuale perché oggi sappiamo che la forza di gravità è solo una piccola parte di un fenomeno più complesso, grazie alla teoria generale della relatività. Ma prima di entrare nel merito è il momento di fare un piccolo ripasso di fisica. Tutti conoscono Newton, che ai suoi tempi era un vero e proprio semidio della fisica, con la storia della mela che gli cadde in testa. Beh, non è successo davvero. La verità è che Newton vide una mela cadere da un albero, ed era in uno stato d'animo contemplativo. E in quel momento si chiese perché la mela cadesse dritta verso il suolo e non di lato o in un'altra direzione. Suppose che la forza di gravità tra due corpi li attirasse l'uno verso l'altro con una grandezza direttamente proporzionale alla loro massa e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra loro. Il percorso che i corpi compiono sarà il più breve per minimizzare il consumo di energia, quindi una linea retta. Probabilmente però Newton pensava che mancasse qualcosa alla sua teoria, perché è risaputo che non era completamente soddisfatto. Questo perché all'inizio pensava che la forza di gravità fosse una spinta, non un'attrazione. Newton non sapeva ancora di avere parzialmente ragione, ma la sua teoria della gravità fu accettata come vangelo, secondo cui la magica forza di attrazione era una proprietà essenziale della massa, teoria che resistette e oscurò la verità per i successivi 400 anni. Questo fino a quando, nel 1905, Albert Einstein, un altro genio formidabile, presentò la sua teoria generale della relatività mentre lavorava come impiegato in un brevetto svizzero. La sua sfida alla teoria di Isaac Newton fu ridicolizzata o ignorata completamente, perché le sue idee sembravano troppo radicali per essere possibili. La chiave per comprendere la teoria della relatività generale è che tutto ciò che si trova in un campo gravitazionale cade alla stessa velocità. Ma non fu Einstein a capirlo. Fu Galileo a concludere per primo che tutti gli oggetti rilasciati insieme in assenza di atmosfera cadranno alla stessa velocità, indipendentemente dalla loro massa. Un famoso esperimento dell'astronauta dell'Apollo 15, David Scott, è stato condotto sulla Luna per verificare questa teoria. Nello stesso momento, l'astronauta Scott lasciò cadere un martello e una piuma, che scivolarono entrambi verso il suolo e lo colpirono contemporaneamente. La stessa cosa accadrebbe per qualsiasi oggetto, indipendentemente dalla sua massa o dalla sua composizione fisica. Questo è noto come principio di equivalenza. Allora, perché i due oggetti cadono insieme e atterrano nello stesso momento? Perché non stanno cadendo, sono fermi e non c'è alcuna forza che agisce su di loro. Secondo la teoria di Einstein, la gravità non è una forza tra due oggetti con massa. La gravità è invece la deformazione dello spazio e del tempo in presenza di oggetti con massa, e senza una forza che agisca sugli oggetti, questi viaggiano in linea retta. Einstein riteneva che gli oggetti più piccoli non venissero trascinati da oggetti più massicci, ma che venissero spinti verso il basso dallo spazio che gli sovrasta, e che non esistesse una forza gravitazionale. Secondo la teoria di Einstein, la materia deforma non solo il tessuto dello spazio, ma anche il tempo. Questo tessuto è chiamato spazio-tempo, e qualsiasi oggetto nello spazio deforma questo continuum spazio-temporale. Lo spazio-tempo è costituito dalle tre dimensioni dello spazio, lunghezza, larghezza e altezza, combinate con la quarta dimensione, il tempo. Più l'oggetto è massiccio, più deforma lo spazio che lo circonda. Einstein credeva che le mele cadessero dagli alberi e i pianeti ruotassero intorno alle stelle perché gli oggetti si muovono lungo curve nel continuum spazio-temporale, curve che sono la gravità. Un buon esempio per capire come funziona è quello di visualizzare la Terra su una griglia di spazio-tempo. Si può notare che la massa della Terra deforma lo spazio-tempo e crea una sorta di pozzo gravitazionale. Qualsiasi oggetto intorno a questa massa, voi, io e persino la Luna, viene trascinato verso il basso e verso questo pozzo gravitazionale. Anche la Luna deforma lo spazio-tempo con la sua massa, ma il campo gravitazionale tra la Terra e la Luna non è abbastanza forte da tirare la Luna verso di noi. Invece è come una mela che cade dall'albero. Anche il Sole ha un enorme pozzo gravitazionale che impedisce a tutto ciò che si trova nel nostro sistema solare di volare nello spazio. Possiamo capire come funzionano i pozzi gravitazionali intorno ai pianeti del nostro sistema solare anche dal modo in cui abbiamo lanciato le navicelle spaziali. Per far muovere i veicoli spaziali in direzioni diverse dal loro percorso di lancio e aumentare la velocità, gli ingegneri hanno usato lo spazio-tempo deformato o la gravità intorno ad altri pianeti del nostro sistema solare per ottenere una fionda gravitazionale che manda il veicolo spaziale in un'altra direzione con maggiore velocità. Più ci si avvicina al pianeta e quindi al suo pozzo gravitazionale, più l'oggetto inizierà a muoversi velocemente. Tutto si riduce al fatto che gli oggetti nell'universo sono attratti l'uno dall'altro perché lo spazio-tempo è piegato e curpo. Prima di continuare, abbiamo notato dai nostri dati che molti di voi guardano i nostri video ma non sono iscritti al canale. Iscrivetevi se volete supportarci e attivate la campanella se non volete perdervi i nuovi video. Ora, che dire del cosiddetto campo gravitazionale di cui parlavamo prima? Non è una forza. Un campo gravitazionale è in realtà il campo di forze che esiste nello spazio intorno a ogni oggetto dotato di massa. La Luna ha un campo gravitazionale più piccolo rispetto al pianeta Terra a causa della sua massa. La Terra ha un campo gravitazionale molto più forte della Luna a causa della sua massa. Ma nello spazio un campo gravitazionale esiste quasi ovunque. Con tutto ciò che fluttua nello spazio sopra le nostre teste potrebbe essere facile credere che non ci sia alcun campo gravitazionale in orbita intorno al nostro grande pianeta blu. Tuttavia, anche la Stazione Spaziale Internazionale sente la gravità della Terra. La cosa sorprendente è che l'effetto della gravità in orbita intorno al pianeta è quasi lo stesso di quello sulla superficie del pianeta. In effetti, la gravità in orbita è circa il 90% di quella sulla superficie del pianeta. Quindi, se pesate 100 kg sulla Terra e avete una scala spaziale che arriva fino alla Stazione Spaziale peserete circa 90 kg lassù. Ma un momento. Se nello spazio intorno al pianeta c'è gravità perché gli astronauti sembrano fluttuare a gravità zero? Il motivo per cui gli astronauti sembrano fluttuare nello spazio è che tutto, compresa la Stazione Spaziale Internazionale, cade contemporaneamente nel vuoto dello spazio. Questa condizione, in cui sembra che persone e oggetti siano privi di peso, è chiamata microgravità. Se tutto cade allo stesso modo, indipendentemente dalla sua massa, allora un astronauta in volo libero lontano da qualsiasi fonte gravitazionale e un astronauta in caduta libera nel campo gravitazionale di un corpo massiccio avrebbero la stessa esperienza. In realtà, la Stazione Spaziale, i satelliti e tutto il resto sono sempre in caduta verso la Terra. E mentre la Stazione Spaziale Internazionale sta cadendo, si muove anche molto velocemente, a circa 28.000 km all'ora, sotto la spinta della forza gravitazionale della Terra. Ci sono alcuni modi per dimostrare che Einstein ha ragione sul fatto che gli oggetti con massa deformano il tessuto dell'universo chiamato spazio-tempo. L'accelerazione gravitazionale alla superficie della Terra è di 9,81 metri al secondo. Il motivo per cui la gravità attira voi e altri oggetti verso il suolo non ha nulla a che fare con il nucleo del pianeta. Tutti gli oggetti dotati di massa piegano e curvano lo spazio-tempo e questa curvatura dello spazio è la gravità stessa. Quindi, se dovete in qualche modo viaggiare verso il centro del pianeta, non ci sarebbe gravità. Vi trovereste lontano dalla curvatura dello spazio-tempo, al centro di un oggetto dotato di massa, e quindi flottureste intorno al nucleo del pianeta senza peso. Ma quando iniziate a tornare in superficie, iniziate a sentire la curvatura dello spazio-tempo dovuta alla massa della Terra e all'effetto di tale curvatura. La gravità comincerebbe a diventare più forte. Naturalmente, dovremmo far viaggiare una sonda fino al centro della Terra per poterlo dimostrare. Ma c'è un altro modo per dimostrare che la gravità deforma lo spazio-tempo. Uno di questi è chiamato lensing gravitazionale. Ciò accade quando un corpo celeste massiccio provoca una curvatura dello spazio-tempo abbastanza grande da far apparire la luce intorno all'oggetto visibilmente piegata, come se si stesse guardando l'obiettivo di una macchina fotografica. Il lensing gravitazionale si verifica quando l'oggetto massiccio, ad esempio una galassia, deforma lo spazio circostante in anelli di luce. È interessante notare che questo ci ha aiutato a trovare altre galassie e oggetti nello spazio che altrimenti non avremmo visto senza l'effetto di lente gravitazionale. La croce di Einstein è un esempio famoso e mostra un quasar sottoposto a lente gravitazionale che si trova direttamente dietro il centro di una galassia. Quattro immagini del quasar appaiono in primo piano a causa della forte lente gravitazionale della galassia al centro. Potrebbe sembrare che Einstein abbia capito tutto sulla gravità e ci sono molte prove a sostegno della relatività generale. Ma ecco il grande problema. Nella sua forma attuale è incompatibile con la meccanica quantistica. La gravità quantistica è una fisica teorica che cerca di descrivere la gravità secondo la meccanica quantistica. Ad oggi non esiste una teoria di questo tipo che sia universalmente accettata e confermata dall'esperienza. Ma non è tutto. I ricercatori hanno capito che a un certo punto, in un buco nero, la teoria di Einstein si rompe e smette di funzionare. Gli scienziati hanno utilizzato tre telescopi giganti agli Hawaii per osservare una stella blu chiamata S2 avvicinarsi al buco nero Sagittarius A nel mezzo della galassia della Via Lattea durante la sua orbita di 16 anni. Se la teoria di Einstein fosse corretta, il buco nero deformerebbe lo spazio e allungherebbe la lunghezza d'onda della luce proveniente dalla stella. Le onde luminose si allungherebbero perché l'intensa gravità del buco nero prosciugherebbe la loro energia e farebbe passare la luce della stella dal blu al rosso. Proprio come previsto da Einstein, la stella iniziò a brillare di rosso. Se si fosse trattato di un altro colore, avrebbe fatto pensare a un modello di gravità completamente diverso. Al momento, gli scienziati sono alla ricerca di una curvatura dello spazio-tempo così estrema da far fallire la teoria della relatività generale. Essi ritengono che nei prossimi dieci anni la teoria della relatività generale sarà spinta ai suoi limiti e un altro genio arriverà a mostrarci dove Einstein si sbagliava. Speriamo solo di non dover aspettare altri 300 anni. Grazie per aver visto questo video. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e commentate cosa ne pensate sull'argomento.